Il giusto percorso per l'accesso al credito è il titolo del seminario promosso da Confidi, PMI Campania, Ministero delle Economie e delle Finanze e Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli con il patrocinio della Regione Campania che si è tenuto nella sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. All'evento hanno partecipato Angelo Bruscino, vicepresidente Confidi PMI Campania che ha presentato i temi del seminario ed Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli che ha illustrato il progetto del mese dell'educazione finanziaria. Ci sono delle alternative al credit crunch e noi stiamo qui a proporne una in particolare. Dal mese di settembre, con grande orgoglio lo dico, il nostro Confidi, primo in Italia, è in grado di erogare direttamente un aiuto alle imprese. Da settembre abbiamo aiutato già 40 imprese con erogazioni mediamente di 35 mila euro, di pura liquidità per affrontare il caro bollette e per affrontare tutti i costi che in questo momento le imprese devono affrontare e traghettarle al mese più importante dell'anno che è dicembre e cercare in questa maniera di farle ottenere quel necessario ossigeno dalle vendite per affrontare il 2023. Finalmente i Confidi che fino a oggi prestavano solo garanzie con la modifica della legge 106 possono erogare credito direttamente alle imprese. Questo è un passo importante e fondamentale perché le imprese che si trovano in difficoltà, le imprese che non hanno la possibilità di ricorrere al credit ordinario, trovano una soluzione finanziaria nell'accesso al credito facendo domanda ai Confidi che erogano, come detto, direttamente i finanziamenti. Maria Cristina Petricca, direttore Federa a Confidi, è intervenuta invece sulla piattaforma Merito di Credito.it e gli aspetti normativi del credito diretto della legge 108-96. La mia federazione in tema poi di educazione finanziaria, un tema assolutamente importante per i singoli, per i cittadini, per la collettività in genere ma anche per le imprese, su questo tema ha avviato già nel 2019 una piattaforma Merito di Credito.it dove le imprese, micro, piccole e medie in particolare, troveranno tutti quegli strumenti che gli promettono di approfondire il tema della formazione.